Buongiorno ragazzi, io sono Luigi Rosanero. Allora, le novità di oggi. Intanto, ieri sera esco, vado al cinema. Per chi fosse interessato, sono andato a vedere Annabelle 3. Quando sono tornato, mi sono trovato la notifica su YouTube del videomessaggio fatto da Salvatore Tutto lo Mondo sul canale del Palermo. Tutto lo Mondo che parla ancora, ribadisce ancora i soliti concetti, anzi, ne aggiunti di altri e magari anche piccanti. Allora, lui dice che ha scoperto che tutto questo discorso del fallimento del Palermo, della serie D, è tutto pilotato. Cioè, ragazzi, dietro ci stanno i complotti a modi illuminati, a modi cucus clan, capito? Lui ha parlato di complotto che era cominciato ancora prima del loro arrivo. Non che ce l'abbiano con loro, ma che c'è qualcuno che per prendere il Palermo senza pagarne il debiti, sta macchinando e pilotando verso il fallimento, così lo prende praticamente a costo zero. E chi è questo qualcuno? Forse lui si ce l'ha con Ferrero? Visto che Ferrero, a proposito, oggi a Mediaset hanno detto che praticamente tra il gruppo di Vialli e l'acquisto della Sampdoria è quasi fatta. Hanno parlato proprio che Ferrero sta accelerando i tempi per acquistare perché vuole il Palermo. Allora è Ferrero che sta pilotando tutto questo dall'alto per farci fallire e farci ripartire? Oppure ce l'ha con qualcun altro? Intanto lui ha detto che ha denunciato questo fatto a tutte le autorità competenti, ha mandato la denuncia in tutti gli uffici e le sedi legali, che siano la FIGICI, la Serie B, la COVISOC e anche a Leo Luca Orlando, il sindaco, per informare che in realtà tutto questo è architettato, che lui confida ancora nella Serie B, ha mandato tutte le documentazioni fatte giorno 30 per dimostrare che il Palermo è in regola e che se non è stato puntuale è perché è stato raggirato dal finto broker, che tutti danno il Palermo per morto perché è quello che vogliono vedere per vederlo ripartire, perché ci sono tanti avvoltoi che vogliono la sua società, perché la società è sua e ha detto che loro, lui, non demorderà, che non darà la sua società a nessuno perché la sua società è viva, è forte, è solida, non è vero che è fallita, però ha detto anche, ha finito il video dicendo intanto tutte queste cose, il Palermo sarà in Serie B perché noi lo meritiamo, perché ci aspettiamo che le autorità competenti ci riconoscano e tutte queste minchiate che già sappiamo a memoria, intanto oggi la COVISOC ha detto che il Palermo non è in Serie B perché mancano parti dell'iscrizione e non è arrivato in tempo, quindi il Palermo non può essere in Serie B e che se vogliono fare il ricorso, il ricorso costa 15.000 euro, però lui ribadisce la sua posizione e poi finisce, se non siamo più graditi a Palermo per delle chiacchiere infondate, perché sono chiacchiere infondate, perché loro fanno i fatti, siccome sul Palermo ci hanno messo soldi, i giocatori non sono stati pagati, la fiduzione motivo per un altro non è arrivata, l'iscrizione non c'è, questi cazzo di soldi, ah sì, li hanno messi soldi perché Lucchiesi lo stipendio l'ha preso, Lucchiesi appena arrivato, l'ultima arrivata ha preso lo stipendio, quindi i soldi per il Palermo li hanno messi, visto che Lucchiesi risulta un dipendente del Palermo, è una grandissima buffonata, soprattutto come finisce il video, il video finisce dicendo se non siamo più graditi, noi siamo pronti a lasciare la società a qualcun altro, ma visto che ci abbiamo messo i soldi, vogliamo il rimborso, cioè loro vogliono essere pagati per dare il Palermo a qualcun altro, vi rendete conto? Questi arrivano, fanno i Brunelli, veramente fanno i Brunelli perché ormai è palese, dicono di avere messo soldi e non è parola, ma è vero, sono fatti, dove cazzo stanno sti fatti se non sono stati manco pagati i giocatori, dove cazzo stanno sti fatti che vuole giocare la Serie B e intanto mezza squadra è smantellata, con chi minchia la vuole fare la Serie B, però dice che lui è pronto ad andarsene se gli danno i denari che lui ha sganciato, tu puoi scrivere su carta ho pagato Tizio, ho pagato Caio, ho pagato quello, ma poi bisogna vedere se è vero, come il discorso della fideiussione, bisogna vedere se è vero, avranno fatto quadrare dei conti per prenderci dei soldi loro e vendere la società. Ragazzi a questo punto il meglio per noi, e lo dico contro il nostro interesse, è fallire veramente, partire da una società seria che voglia di investire e ripartire da zero, perché è una buffonata, il video poteva essere credibile fino a metà, che è poi credibile un cazzo, perché lui dice che ha adempiuto tutti i suoi compiti, quando già il più importante non l'ha adempiuto, cioè il pagamento dei giocatori, e già là sei, già là rischi, rischi perché ci sono dei tempi, non è che puoi pagare i giocatori quando cazzo ti pare, di eh ma io ho compiato il Palermo, eh ma tu lo sapevi come era messo il Palermo, se avevi intenzione mettevi i soldini, tu dici di avere messo soldi, soldi che non sono mai arrivati, soldi che non esistono e pretendi pure il rimborso, ragazzi la presa per il culo è palese, oggi la Covizoc ha detto no all'iscrizione del Palermo in Serie B, ma questi proveranno a fare ricorso per guadagnare tempo, cioè noi passeremo l'estate tra ricorsi, contro ricorsi e cazzo di ricorsi, io non so nemmeno se c'è, a sto punto l'anno prossimo se ci faremo qualche campionato e se non ci passeremo un campionato di tribunali con questi coglioni che cercheranno di guadagnarci il più possibile, ragazzi per essere più precisi andate a vedere il video direttamente sul canale del Palermo, fatevi due risate, schifatevi pure voi perché è vergognoso, prima difende il Palermo e poi dice se qualcuno lo vuole ci deve dare i soldi, soldi che non sono mai usciti, ragazzi io a sto punto veramente spero che questa barzelletta finisca presto, che possiamo tornare a parlare di calcio, che sia anche Serie D ma parlare di campo perché almeno puoi riprenderti le posizioni giocando, questi ci stanno facendo solo perdere tempo per cercare di spillare più soldi possibili a qualcuno o dalla società, se il Palermo invece viene dichiarato fallito questo si attacca al cazzo, non può preternere niente, cade il marchio e si rinesce da zero, a sto punto è la cosa migliore ragazzi, a me dispiace dirlo ma se la stanno tirando alle lunghe, sono dei buffoni e ci vogliono solo guadagnare sopra, fai i video da Roma semplicemente perché ce l'ha detto palesemente, che se scanta bene nel Palermo picchi sennò l'ammazzano allignati. Ragazzi, allora, la mia è che sono dei brunelli che ci vogliono guadagnare, voi credete all'idea del complotto che magari Ferrero o qualcun altro abbia architettato da tempo il fallimento del Palermo per metterci le mani sopra, che lui è stato raggirato, che il Palermo è in Serie B ma ce lo vogliono tenere nascosto, se credete tutto questo scrivetelo nei commenti, quindi commentate, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale di Luigi Rosanero, vediamo come va a finire questa barzelletta e se prima o poi si potrà tornare a parlare di campo, io vi saluto nel bene e nel male, nella D, nella B, nella C, nella A, sempre Forza Palermo!